Siamo chiamati a curare e a rispettare la salute fisica e la vita stessa perché sono beni preziosi donati da Dio. In tale compito c'è di aiuto la virtù della temperanza che ci fa evitare gli eccessi dell'alcol, dei cibi, del fumo e degli stessi medicinali. Inoltre rifiutare la trasfusione di sangue quando serve a salvare la vita significa suicidarsi. Nel contempo donare il sangue è un atto non solo moralmente lecito ma anche altamente meritorio anzi un obbligo quando si tratta di salvare una vita. Il quinto comandamento difende la vita che è alla base di tutti gli altri beni. A riguardo vi deve essere uno sforzo comune per creare una cultura della vita specialmente oggi che il cinema e la televisione ci presentano come occasione di spettacoli gli incidenti stradali, gli invortuni sul lavoro, le adulterazioni dei cibi, i sequestri di persone, il terrorismo, banalizzando la gravità in diversi modi. È compito dell'intera società che tutti abbiano condizioni per una sana e dignitosa crescita, cibo, vestiti, lavoro, abitazione, assistenza sanitaria, previdenza sociale, insegnamento di base. Le sperimentazioni scientifiche, mediche e psicologiche che sulle persone o sui gruppi umani possano concorrere alla guarigione dei malati a pregresso della salute pubblica sono approvati dalla Chiesa. La scienza e la tecnica devono essere poste a servizio dell'uomo per promuovere il suo sviluppo e migliorare l'habitat in cui vive. Ciò presuppone il rispetto dei valori morali. Perciò le multinazionali, o meglio, le utilizzazioni del proprio corpo sono proibite a meno che non siano richieste per la salvezza dell'intero organismo, mentre le persone vietate le se praticate per motivi secondari, come per riscuotere l'assicurazione, per evitare il servizio militare, eccetera. Naturalmente si possono donare i propri organi da vivi, occhio, reni. Se il donatore non corra a currischio né per la propria vita né crea difficoltà nell'attenuare le attività e i doveri legati alla sua persona e alla sua famiglia. se vi è una continua presa di coscienza da parte del mondo civile circa il rispetto della persona umana, grazie anche all'opera della Chiesa, vi è allo stesso tempo una recrudescenza di atti malavitosi da parte di singoli e di gruppi di cittadini. Possiamo citare i rapimenti che esercitano un terrore e traumi sulle vittime e sulla famiglia. Il terrorismo che minaccia e usa la violenza con bombe ed armi e uccidono non solo le vittime designate ma anche tanti innocenti. La tortura che usando la violenza fisica o morale cerca a strappare segrete di spaventare gli oppositori, di punire i colpevoli, tutto ciò senza regolare il processo. Circa le manipolazioni genetiche nel Catechismo degli Allutti la verità vi farà liberi, leggiamo il rispetto dovuto alla persona umana consente gli interventi nell'embrione umana solo a scopo teorapetico. Sulla pena di morte vi sono stati sempre pareri contrastanti, condizionati da situazioni ambientali e culturali. Noi ci rimettiamo a dire che non è lo Stato a dare la vita e quindi non può essere lo Stato a toglierla. Pio XII afferma che il diritto alla vita l'uomo lo ha ricevuto immediatamente da creatore, non da altro uomo, né da un gruppo di uomini, non dallo Stato, né da un gruppo di Stati, né da alcuna autorità, anche se assassino l'uomo non perde il suo diritto alla vita.